necessariamente in questo momento il mio progetto di volontariato e tempo di regola di regalare feltro magie si arresta perché non posso fisicamente regalarmi il mio tempo e l'ultimo progetto abbia portato i lavori di un gruppo di grandi e piccoli a un importantissima biennale del rame però di questo te ne parlerò più avanti quello che invece oggi voglio dirti e che anche se non posso regalarti fisicamente il mio tempo ho pensato di regalarti i miei tutorial sono circa 20 tipologie differenti e voglio regalarli a qualsiasi tipo di realtà che normalmente vive in condizioni di disagio ma in questo momento si trova ancora di più a dover affrontare la situazione della di vivere a casa all'interno di una comunità quindi immagino alle case famiglia immagino a delle strutture psichiatriche immagino a delle strutture dove risiedono anziani insomma in queste strutture dove in questo momento non c'è possibilità di contatto fisico io voglio regalare il mio materiale quindi se sei una di queste strutture si appartiene a una di queste strutture puoi oppure se una cooperativa sociale o un ong un'organizzazione un volontario che fa parte di questa di uno di queste strutture contattami a info chiocciola ne arte ne parte punto net e sarò veramente felice di inviarti un pacco con tutti i materiali per realizzare progetti e diffondere feltromagie anche a distanza